mister sicuranza oggi tre punti di di platino una vittoria meritata credo di sì anche se come al solito poi ci complichiamo la vita un po noi un po insomma alcune scelte arbitrali nelle prime due partite insomma non è che ci hanno proprio come dire soddisfatto però credo che non abbiamo rubato nulla abbiamo condotto bene sia nel primo tempo soprattutto nel primo tempo poi nel secondo me abbiamo dovuto ripeto questo piccolo calo di tensione magari dovuto anche l'espulsione pensavamo per cui che era diventato tutto più semplice purtroppo noi quando pensiamo che le cose sono diventate semplici ce le complichiamo le facciamo diventare difficile però onestamente adesso al netto di tutto queste considerazioni credo la vittoria del lioni sia meritata e quindi andiamo avanti tre punti adesso per scalare la classifica giorni a sé squadre le impressioni di sicuranza su questo campionato si doveva però ripartire mister assolutamente sì noi siamo contenti intanto come come addetti ai lavori allenatori giocatori siamo contenti che abbiamo ripreso ovviamente un plauso va fatto alla società che ha scelto di riprendere perché insomma la società poteva anche decidere diversamente per cui anche alle società che hanno scelto di riprendere va dato atto di questa grosso sacrificio che hanno fatto perché era molto più semplice stare a casa e risparmiare bei soldini campionato campionato difficilissimo non è il campionato che è solito per cui un torneo in cui tutte sono attrezzate tutte si giocano una chance per poter accedere alla serie d per cui non c'è un campo facile le squadre sono tutte competitive per cui può succedere di tutto il lioni quindi non si nasconde dietro gli obiettivi ma anche questa storia il lioni nasconde non si nasconde noi giochiamo sempre per vincere poi qualche volta ci riusciamo e qualche volta non ci riusciamo siamo una buona squadra io l'ho sempre detto abbiamo mantenuto il gruppo originario dell'inizio della stagione l'abbiamo integrato con tre o quattro elementi importanti e facciamo la nostra strada e poi come dire alla fine tireremo le somme Marco Tufano non basta un secondo tempo tutto cuore è arrivato una sconfitta sì c'è grande rammarico perché comunque abbiamo raddrizzato una partita che addirittura eravamo in dieci abbiamo trovato questo calcio di rigore ma a parte il gol dell'1 a 1 il primo tempo sinceramente non è stato non è stato bello da parte nostra però sai il secondo tempo ci siamo rimboccati le mani che abbiamo capito un po' diciamo come magari di meglio in campo con grinta cuore ci vogliono queste le partite perché comunque c'è ancora un po' di tempo per fare il rodaggio però c'è grosso rammarico perdere una partita del genere che purtroppo come abbiamo visto tutti e cioè sull'1 a 1 potevamo dare addirittura in vantaggio in dieci abbiamo avuto due tre palle coro non una e alla fine c'è stato questo coloro sfortuna nostra che dire c'è grosso rammarico le prossime partite sono un crocevio per la stagione perché un punto in due partite è poco in un campionato a 6 squadre molto poco se pensiamo come abbiamo pareggiato la settimana scorsa che fino al 94esimo avevamo tre punti in tasca adesso sull'1 a 1 potevamo fare qualcosa in più sono menutile nasconderlo punti buttati punti buttate ma ogni partita ma anche adesso attenzione già queste due partite sapevamo che erano tutte finali perché alla fine sono dieci partite meno due adesso ne mancano otto se non fai il risultato rischi comunque di stare già non dico fuori però diventa tutto più difficile un campionato competitivo perché tutte le stesse squadre sono molto forti io dico che il giro del nostro ripeto non voglio dire una frase fatta per me è più competitivo perché sono tutte squadre attrezzate c'è bene o male si giocano tutte le partite come abbiamo potuto ben vedere sono tutte buone squadre di un buon livello ad esempio il lione oggi la stessa squadra nostra c'è la palmese c'è vinare inutile mariglianese cioè sono tutte squadre competitive c'è ogni partita può succedere di tutto per Marco Tufano questo Lions-Montenberg può accedere agli spareggi? Sicuramente io sono fiducioso come lo è tutta la squadra ripeto fa male perché fa male buttare punti così però noi ci chiediamo perché comunque ripeto anche oggi sull'1-1 in 10 cioè sull'1-0 abbiamo pareggiato 1-1 abbiamo avuto due o tre palle golle un motivo ci sarà grazie a tutti